... Innanzitutto fa piacere che è stata sottolineata che è stata fatta una buona prova da parte della difesa perché comunque si è lavorato tantissimo in settimana proprio per far sì che quei pezzi da 90 come dicevate prima non ci facessero del male, ci siamo riusciti anche se da difensore dispiace perché comunque alla fine il gol si poteva evitare, per un difensore comunque prendere il gol sembra quasi che ti scombustano due piani, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto, volevamo quello ma soprattutto era importante vincere per dare anche una gioia ai nostri tifosi che sono stati eccezionali e per noi a livello personale è importante comunque partire con il piede giusto. Niente, riguardo a me, io sono andato via dalla Ternana per delle cose legate più a livello personale che di scelta tecnica, l'anno scorso ho avuto un brutto infortunio proprio alla settima giornata contro il Novara, guarda caso, poi a gennaio comunque c'è stato il fatto della lista, io sono stato operato il 3 ottobre e diciamo che sono stati sbagliati tra virgolette i tempi di recupero e uscendo dalla lista non è che è stata una cosa che mi è dispiaciuta, però è stata una cosa che comunque mi ha lasciato un po' di stucco anche perché comunque ero molto considerato e poi è normale, poi ognuno di noi fa le tue scelte, io ho deciso di cambiare aria. Dal primo giorno che ho avuto il primo incontro diciamo anche se non proprio di persona ma telefonico con il direttore ho avuto buone sensazioni, questo risale a tanto tempo fa, diciamo che era, mi sa che la squadra stava andando a giocare la Supercoppa, perciò penso che ancora dovevano finire neanche i campionati, siccome io sono uno che vive molto di sensazioni infatti sono andato via da Terni perché io se devo stare in un posto ci devo stare sereno perché secondo me la serenità fa tutto, io a Terni l'avevo un po' persa e ho deciso di cambiare, di fronte ho trovato persone che nonostante venissi da sette mesi di inattività mi hanno dato lavoro, anche se comunque a spazio non ero perché ero legato ancora da un anno di contratto, però questa voglia, questa fiducia che mi è stata data l'ho presa al volo e spero di cambiarla nel migliore memoria.